Un eventuale ricorso alla Corte Costituzionale non avrebbe esito, l'onorevole Dario Iaia di Fratelli d'Italia minimizza il significato della procedura ipotizzata dal presidente della regione Michele Emiliano che contesta nel metodo la nomina di Massimo Ferrarese al commissario dei giochi del Mediterraneo 2026 e preannuncia di rivolgersi all'Alta Corte. Iaia stigmatizza l'atteggiamento del governatore di Puglia e accoglie con favore i propositi di collaborazione manifestati dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Le solite polemiche di Emiliano fondate alla fine sul nulla sono dei giochi di potere, purtroppo il presidente Emiliano è abituato a comandare e quando non riesce a comandare ha questo tipo di reazione. L'abbiamo visto sulla TAP, io l'ho già dichiarato, anche in quel caso ricorso al Tar, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, anche in quel caso la regione Puglia ha avuto torto davanti a questi gradi di giudizio e ora di nuovo ricorso alla Corte Costituzionale dicendo che il commissario ferrarese va bene ma non va bene il metodo eccetera. Noi apprezziamo invece l'atteggiamento del sindaco di Taranto collaborativo, l'obiettivo del governo è quello di far sì che i giochi si facciano a Taranto, che siano dei grandi giochi, che siano un evento importante per Taranto e come si sa ed è noto la nomina di un commissario non fa altro che accelerare i giochi e soprattutto dare trasparenza, cosa che finora dal nostro punto di vista è mancata.